Non ne avevano diritto eppure hanno ottenuto indebitamente il beneficio del reddito di cittadinanza utilizzando dichiarazioni, documenti falsi, attestanti, cose non vere o mettendo informazioni dovute. Sono 86 al momento su un campione esaminato di oltre 2000 cittadini per settori del sussidio, le persone denunciate dai carabinieri del comando provinciale di Salerno che hanno verificato durante questo primo semestre con una capillare attività di indagine i requisiti previsti per la concessione del reddito di cittadinanza. In particolare attraverso l'esame incrociato dei dati documentali e delle informazioni acquisite nel corso di controlli del territorio con quelli forniti dai comuni di residenza sono state comprovate numerose irregolarità nelle procedure di dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi ed econometrici. L'compagna di controlli che abbiamo avviato all'inizio di quest'anno dal gennaio del 2020 quindi comprensiva anche del periodo di fermo totale dovuto alla prima fase del covid e che ci ha impegnato devo dire notevolmente in tutta quanta la provincia, tutte quante le stazioni carabinieri dipendenti dal comando provinciale che sono 95 hanno fatto un lavoro molto approfondito che ha riguardato tutti i requisiti necessari per ottenere questo beneficio del reddito di cittadinanza e in alcune circostanze abbiamo riscontrato delle dichiarazioni false, in altre circostanze in una in particolare, ad esempio, il beneficio era anche a vantaggio di un appartenente a un soddorizio criminale operante nella Piala del Sele, condannato per 416 bis. Tutte queste denunce sono state inoltrate dall'autorità giudiziaria e anche ai competenti uffici INPS per territorio per la ripetizione delle somme indebitamente percepite e per l'interruzione del beneficio. Beh, c'è il caso singolare di una persona che ha dichiarato di risiedere in una abitazione nella quale invece cittava attività di pescheria e quindi quello è un caso molto molto singolare che ci ha attirato l'attenzione e questo è stato fatto chiaramente con un controllo diretto sul territorio da parte dei carabinieri e comunque andremo avanti anche per la restante parte dell'anno nello svolgere questi controlli in maniera molto accurata.